Dovrei salutare uno per uno, ma saluto a tutti. Ho fatto il medico a Soveria per la bellezza di 25 anni, la mia giovinezza. Con tutti i colleghi che siamo qua, in quell'ospedale in cui davvero c'era la salute, in cui davvero si faceva medicina, in cui davvero le persone venivano e non avevano, non dovevano pietire a chiedere la salute. Tutto questo, non posso dire altro. Quindi la nostra felicità è quella di ritrovarci qua, settantenni, ancora ad essere insieme, chi fa il chirurgo, chi l'ostetico, chi il cinecologo, chi il nematologo e via discorrendo, non sono qua. Vi abbraccio a tutti. Io dico soltanto che stasera sono soltanto contento. Felice no, perché la felicità non ci credo. Sono contento di ritrovarmi con i vecchi colleghi, con i veri medici. Buonasera a tutti. Grazie.